Denunce continue dell'utenza relative alla situazione del CUP e del pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Così il PD ha voluto verificare di persona e questa mattina ha tenuto un presidio di qualche ora in ospedale. Premessa doverosa va fatta, il personale medico infermieristico fa ciò che può, anzi molto di più. Sott'accusa c'è l'organizzazione aziendale che per il partito andrebbe strutturata meglio per non incidere su prestazione utenza. Personale precario, operatori costretti a lavorare ai limiti del possibile, assenza di nuove tecnologie, e medici di base che vanno in pensione non vengono sostituiti, questione casa di comunità all'ospedale, attacco hacker e tanto altro sul piatto. Per il Partito Democratico che insiste sulle dimissioni del manager romano, il presidente della regione Marsilio e il sindaco Biondi che hanno nominato il manager dovrebbero assumersi le loro responsabilità. Gli operatori, come abbiamo già più volte ripetuto, sia i medici che tutti gli altri, stanno facendo da quattro mesi un lavoro in trincea perché la situazione non è cambiata, non è migliorata, siamo ancora con i foglietti, mancano i presidi, ma quelli di base, medicinali, è uscito fuori anche un grosso problema sull'ospedale di Avezzano dove contiamo di andare nei prossimi giorni a fare la stessa cosa perché ci vengono date, quando ci vengono date, delle risposte assolutamente insufficienti, non rispondenti al vero. Il sistema informatico è comunque paralizzato, non è ripartito nulla, non sono ripartiti gli approvvigionamenti perché sono stati persi tutti i contratti in essere di fornitura e quindi siamo alla paralisi. Noi continuamente riceviamo messaggi dagli operatori di protestare, di fare, di venirli ad aiutare e oggi siamo qui per questo motivo.